Vediamo insieme gli ingredienti per preparare i tartufi al tiramisù. 100 grammi di savoiardi, 50 grammi di zucchero a velo, del caffè, 250 grammi di mascarpone, cacao, tritate i savoiardi. Mescolate il mascarpone e lo zucchero, aggiungete il caffè, aggiungete i savoiardi e mescolate. Mettete in frigo per almeno 2 ore. Ora che l'impasto è freddo, prendete un cucchiaino e formate una pallina. Passate le palline nel cacao.